Mr. Maurizzi, si va a Frosinone, una partita sulla carta purebidiva, ma la Paganese non parte assolutamente battuta, bisogna pur sempre scendere in campo? No, sulla carta mai dobbiamo partire battuti, nel senso che comunque dobbiamo fare delle buonissime gare e abbiamo nelle corde la possibilità di fare bene. Quindi andiamo a giocare contro una grandissima squadra, è inutile nascondolo, ma andiamo anche a giocare contro... anche loro devono giocare contro la Paganese. Psicologicamente la Paganese come sta? È stata una settimana particolare. La Paganese indipendente da come sta psicologicamente è per me come dovrebbe stare, nel senso che comunque deve credere nelle proprie possibilità, perché fino adesso abbiamo fatto male soltanto il primo tempo di domenica con il Prato e indipendentemente da quello che dicono abbiamo subito soltanto gol sul calcio piazzato, non abbiamo subito un gioco dell'avversario arembante, potremmo anche subirlo, però devi trovare forza nella consepolezza dei propri mezzi, che senza quegli errori individuali di disattenzione forse avremo due o tre punti in più.